Che roro, che roro, soldato extraterrestre che si infiltra tra gli umani sempre più, che roro, che roro. Ciao ragazzi, io sono Stefano Rochi97 e oggi vi parlo di un'opera molto simpatica, ovvero Che Roro. Che Roro, oltre ad essere una buona commedia con unioni di fantascienza, è anche una delle commedie ancora in pubblicazione, che però, però, ci sono diversi ma, sia nel manga e sia su adattamento animato. Scopriamolo insieme l'opera di Yoshizaki. Che Roro viene serializzato su Shonen Ace dal 1999 ed è tuttora in corso. L'opera, oltre che ha avuto un buon successo dal pubblico, vince addirittura lo Shogakuga Manga Awards nel 2004, nel categoria Kodomo. Anche se Che Roro, come ho detto due secondi fa, in realtà è uno shonen e veniva pubblicato appunto su un shonen ace. Oltre a questo, vengono fatte due serie anime e entrambe fatte dalla Sunrise, con la prima stagione che viene fatta dal 2004-2011 con 358 puntate, mentre la seconda nel 2014 con 23 puntate. La trama segue le vincende di Che Roro, una rana aliena venuta attorno allo spazio che, assieme ad altre ranocchie, Tamama, Jiroro, Ururu ed Ororo, che, venuti dal pianeta Peekopon, vogliono conquistare la Terra. Per la loro sicurezza, per non essere scoperti dagli umani, le ranocchiette si disperdono e Che Roro si rifugia nella casa della famiglia Hinata, composta da Aki e da suoi due figli, Natsuki e Fuyuki. Successivamente, dopo che i compagni di Che Roro si ricongiungono con lui, per loro sarà un'impresa difficile invadere il pianeta. Tra tentativi falliti, scopriranno anche che le ranocchiette faranno persino amici con alcuni umani. Che Roro, per me, è una buona commedia, anche se è un po' stancante per via della sua longevità, per me è una buona opera. Inoltre, in quest'opera, oltre a moltissime citazioni a Gundam, come ad esempio in Che Roro, che si diverte a costruire i Gunpla, che sarebbero una sorta di action figure dedicati a Gundam, in quest'opera ci sono alcune citazioni ad alcune opere famose. Facciamo ad esempio, la faccia di Momoka, una delle protagoniste della serie, assomiglia parecchio a Yu di Krimi Mami, versione adolescente. Le citazioni di Doraemon, di Starbrazer, di Evangelion, di Occhi di Gatto e persino di Glass Mask, meglio conosciuto da noi come Grande Soni di Maya, che è addirittura in una puntata che Roro si improvvisa Chikusa Tsukigake, una delle protagoniste di Glass Mask. E addirittura ci sono diverse citazioni ai di film famosi, come ad esempio quello di Titanic 97. A parte le citazioni che ho detto, che Roro vi consiglia di più la versione manga, che a differenza della versione animata, che ve lo consiglio comunque di vederlo, è bello da vedere, è molto divertente, risulta più godibile rispetto alla versione anime, che aveva tolto diverse scene rispetto alla versione cartacea. A parte questo, ve lo consiglio di recuperarlo, ma con calma, per via delle sue irregolari uscite. E fin qui ho detto di che Roro, lasciate un bel like se vi è piaciuto e, se volete, in descrizione, troverete il mio link del mio canale Telegram. Ci vediamo ad un prossimo video, dal vostro StefanoLoghi97! Ciao!